questa mattina sono di frettissima perché devo andare al lavoro ma non voglio perdere l'occasione di parlare del problema di oggi per fortuna prima di farlo sono riuscito stavolta almeno a darmi una pettinata il che tutto sommato non è male perché l'ultima volta che l'ho fatto ero davvero impresentabile e perfino ad accendere le luci dietro ma di che cosa avevo urgenza di parlarti oggi è presto detto mi hanno segnalato diversi membri della community che dopo l'installazione di windows 11 24 h2 si verifica un fenomeno un po strano ovvero 8 giga di spazio del nostro hard disk sembrerebbero andare persi non sia mai ma non basta hanno segnalato anche dei problemi relativi a microsoft outlook sarà vero non sarà vero lo andiamo a vedere insieme ma soprattutto naturalmente anche a cercare le relative soluzioni e quindi se ti senti pronto iniziamo ma la vera domanda è riusciremo a smettere di parlare di windows 11 24 h2 dando finalmente questo aggiornamento che comunque ti consiglio di fare come una cosa assodata boh non lo so ancora vedremo gli sviluppi dei prossimi giorni ma nel frattempo prima di cominciare dedichiamoci tutti insieme al nostro rituale apotropaico che come ben sai serve a placare le divinità del tubo che ultimamente ci sono state un pochino ostili disclaimer i contenuti di questo video sono esposti a puro scopo informativo ed educativo andiamo avanti va ma sì dai andiamo avanti che è meglio e per l'occasione mi trovo su questa macchina qui che è una macchina che già dovresti conoscere si tratta infatti di quella in cui in questo video qua che ti lascio linkato in alto abbiamo effettuato la transizione da windows 11 23 h2 alla nuova versione 24 h2 pur trattandosi di una macchina non supportata come dicevo poco fa ti conviene assolutamente effettuare questo aggiornamento anche perché abbiamo visto che velocizza e non poco il computer purtroppo tuttavia a quanto pare si porta dietro come anche abbastanza normale che sia per una nuova build di windows qualche piccolo difettuccio nella fattispecie il difettuccio che ci interessa possiamo trovarlo aprendo esplora file portandoci su questo pc aprendo la nostra unità disco locale e vedremo che ci sarà questa cartella qui che si chiama windows punto hold cosa di particolare questa cartella te lo spiego subito quando effettui una transizione ad una nuova build oppure cambi proprio sistema operativo quindi ad esempio se passi dalla build 23 h2 alla 24 h2 oppure se passi come abbiamo fatto su questa macchina da windows 10 a windows 11 24 h2 viene creata una cartella che si chiama windows hold è sempre stato fatto nella storia di windows durante questo tipo di transizioni che cosa fa questa cartella sostanzialmente contiene tutti quanti i file che servono a ripristinare in caso di emergenza il vecchio sistema operativo si tratta tuttavia di una cartella piuttosto cospicua in termini di dimensioni perché se andiamo a vederne le proprietà ci accorgiamo che le sue dimensioni sono effettivamente decisamente ragguardevoli in questo caso infatti arrivano a circa 22,1 gigabyte 22,1 gigabyte che possono anche essere tranquillamente risparmiati nel momento in cui siamo convinti di voler tenere la nuova versione che abbiamo installato e non abbiamo più alcun interesse a tornare alla vecchia e il problema dove sta il problema sta nel fatto che a quanto pare una porzione di questa cartella sarebbe incancellabile lasciando occupati 8,63 giga sulle nostre macchine ma in realtà le cose come vedremo non stanno esattamente così se infatti apriamo il tasto start ci portiamo sulle impostazioni sul lato sinistro individuiamo la voce sistema e la apriamo e scegliamo quindi archiviazione vedremo che avremo la possibilità in questo rigo qua di fare una pulizia dei nostri file temporanei andiamo ad espandere questa voce e vediamo che parte una analisi pulizia di windows update come vedi la capacità selezionata di cose che possiamo pulire ammonta già a 16 gigabyte quindi un buon risultato ma se andiamo a selezionare anche le installazioni di windows precedenti la capacità rimovibile ammonterebbe addirittura a 31,5 gigabyte a questo punto quello che ci basta fare è verificare di aver selezionato tutto io lascio i miei download semplicemente perché ci sono affezionato ma potrei tranquillamente evidenziare anche loro ed effettuare una pulizia di ulteriori 3 megabyte poca roba una volta selezionate tutte quante queste cartelle all'interno ci basta fare un clic su rimuovi file veniamo appunto avvisati del fatto che stiamo per cancellare anche i nostri adorati download non fa niente c'era poca roba clicchiamo sul pulsante continua ed aspettiamo un pochino di tempo che venga effettuata questa operazione nel mio caso una bella mozzarella anzi per la verità neanche tutta ma eccoci di fronte alla pietra dello scandalo 8,63 gigabyte del nostro sacro spazio di archiviazione che non sono stati liberati anatema su di te microsoft ma staranno veramente così le cose abbassiamo per un attimo la nostra schermata e torniamo alla cartella precedente come vedi la cartella windows punto hold in realtà è completamente scomparsa ma allora dove sono questi 8,63 giga di spazio che sarebbero rimasti sul nostro pc andiamo a leggere di che cosa si tratta microsoft ci informa che di tutti gli aggiornamenti installati da windows update viene conservata una copia anche dopo l'installazione di nuove versioni di tali aggiornamenti e questo lo sapevamo già ne abbiamo appena parlato a proposito della cartella windows punto hold la funzione di pulizia di windows update elimina o comprime le versioni precedenti degli aggiornamenti non più necessari allo scopo di liberare spazio su disco potrebbe essere necessario riavviare il computer ma questo nel nostro caso non ci riguarda quello che ci riguarda invece è la seconda cartella unica possibile all'interno della quale potrebbero essere stipati questi 8,63 gigabyte di dati e questa cartella è all'interno del disco c all'interno della cartella windows la cartella che si chiama software distribution se andiamo tuttavia ad aprire questa cartella e ne guardiamo l'intero contenuto ci accorgeremo che questo ammonta a soli 16,9 megabyte ti faccio notare inoltre che visualizzo sul mio sistema anche i file nascosti e quindi di conseguenza non ci sono file che non vengono conteggiati e allora come si spiegano questi 8,63 giga di dati residui se devo fare una scommessa e se vuoi sapere il mio parere questi 8,63 giga di dati in realtà non esistono sono stati già cancellati durante l'operazione che lui tuttavia cerca di fare due volte non trovando fisicamente questi 8,63 gigabyte ci restituisce questo errore come se questi non fossero stati cancellati ma come faccio a dire una cosa del genere ebbene possiamo fare una piccola prova del 9 andiamo a vedere questo come vedi questo è un sistema completamente vergine su cui abbiamo appena effettuato la pulizia insomma non c'è assolutamente niente di installato se andiamo a guardare lo spazio occupato su questo sistema ci accorgiamo che ci sono 56,2 giga disponibili su 79,2 e quindi se la matematica non è un'opinione la windows occupa solo ed esclusivamente 23 giga di spazio andiamo a vedere che cosa succede su un sistema su cui windows 11 24 h 2 viene installato nativamente sarà diversa la situazione ci saranno questi 8 gigabyte in meno o no tu cosa dici ed eccoci qui su una macchina su cui windows 11 24 h 2 è stato invece installato in maniera nativa ovvero semplicemente facendo un'installazione pulita e formatando il sistema sempre con la stessa iso qualche differenza c'è su questa vediamo la presenza di copilot e di outlook di cui parleremo brevissimamente tra un attimo perché devo andare al lavoro ma quello che ci interessa lo vediamo subito apriamo quindi anche in questo caso l'esplora file ci portiamo su questo pc e vediamo che in questo caso sull'unità c ci sono 56,2 gigabyte liberi contro 78,8 se anche in questo caso andiamo a fare la differenza ci accorgiamo che sono 22,6 gigabyte di peso del sistema operativo contro 23 gigabyte di quello aggiornato anziché installare ex nuovo quindi di conseguenza possiamo affermare con una relativa certezza che questi 8,63 gigabyte sono semplicemente un fantasma e che la prossima mossa di microsoft sarà semplicemente quella di correggere lo strumento di pulizia diversa invece la situazione per quanto concerne microsoft outlook con la 24 h 2 di windows diversi utenti hanno riportato un consumo eccessivo di cpu un consumo eccessivo di ram oppure dei riavvii improvvisi dell'applicazione o ancora come succede proprio in questa macchina un difetto direttamente all'avvio che ci impedisce di utilizzare correttamente questo programma e l'unica cosa che possiamo fare è cliccare sul pulsante esci in questo caso microsoft ha preso atto in maniera un po' riluttante devo dire di questo problema e ha promesso di portare a tutti quanti una soluzione efficace in brevissimo tempo ci dobbiamo credere ah e addietro pronto fermi tutti bloccate le macchine è successa una cosa nel frattempo che montavo il video come vedi ho ricollegato questa macchina a internet e gli ho fatto fare gli aggiornamenti e bene microsoft a quanto pare ha già risolto il problema e io che non ci credevo andiamo ad aprire outlook e come vedi adesso sembra proprio funzionare varrà per tutti questo non lo so ancora perché appena capitato mi puoi dire di tutto tranne che non ti informo in tempo reale quando succede qualcosa come vedi in realtà ci stava questa aggiunta in zona cesarini perché la notizia era davvero rilevante e degna di nota quindi penso che correggerò leggermente il titolo di questo video ma veniamo a noi e soprattutto ai ringraziamenti del giorno che quest'oggi vanno a claudio casarsa maurizio 59 vincenzo vigil mike franco mazzone ezio zavatta carlo verna lino parisi françois frangioni gaetano putignano edoardo strada domenico bonetto stefano moroni sandro livieri e giupa 77 che si sono abbonati oppure hanno rinnovato l'abbonamento al nostro canale e quindi vi do il benvenuto o bentornati o rimasti a bordo della community dei gentiluomini scherzi a parte vi ringrazio infinitamente per il vostro supporto ma un ringraziamento speciale quest'oggi va a roberto d'assisti antonio marino e massimo boninsegni che si hanno effettuato l'abbonamento al canale ma lo hanno fatto in qualità di distinti gentiluomini e quindi cari amici mi levo molto ma molto volentieri davanti a voi il cappello farlocco e vi do il benvenuto a bordo da parte mia e di tutta quanta la community ma non basta perché quest'oggi dobbiamo ringraziare anche roberto paganessi maurizio andrenacci maurizio manente ettore luigi cavallo massimo tecchio alcim 4462 luca geromin e thomas 2915 per i loro generosissimi super grazie con cui hanno voluto contribuire e sostenere questa community e quindi di conseguenza a voi va la mia sempiterna gratitudine e un ringraziamento anche estemporaneo per la vostra vicinanza ed ancora ci manca un ringraziamento che naturalmente come ben sai è quello destinato proprio a te che hai guardato questo video mi hai fatto compagnia nel corso di questi minuti e detto questo mi taccio ma non prima di averti salutato e dato come di consueto appuntamento alla prossima grazie